Allora, 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 dai Una mini livellatina ci potrebbe anche stare Magari si potrebbe dare un colpetto anche di terra Queste qua onestamente virtù metallo e virtù acqua Non mi intriano, anche per lo stile che utilizziamo noi Giustamente noi che possiamo livellare tutto Questa almeno ci aumenta anche un po' il peso trasportabile Che non sarebbe male E poi c'è sempre altre vicine Sti cazzi, sti cazzi E allora, l'anzianotto c'è sempre L'anzianotto, che poi in realtà non è l'anzianotto Perché se andiamo a vedere i lineamenti è discretamente giovine E' la vita, il lavoraccio che lo... Allora Qui dentro abbiamo Doci Allora, vediamo che posso fare Eh sì, però aumentare solo quello per la deviazione non conviene Perché come detto poi andando a livellare tutti quanti Non si riesce a... Di solito, sempre in questi giochi c'è qualche parametro da... Da tenere più sott'occhio Ricompenza e riconoscimento Vediamo queste che roba sono Noi abbiamo riconoscimento ottenuti 2800 Ah, ci dà degli oggetti Sì, non ci facciamo un cazzo Cioè, magari sì Giusto per... In realtà non è che stia vedendo tantissimo anche gli oggetti che abbiamo a disposizione Devo essere onesto Beh, nel nostro ritorno ho dei... Dei diversi dubbi, però Allora Ecco, iniziamo... Ehm... Sciabolina Tecnico-tattica Ah, questa in realtà l'avevamo anche aumentata Come... C'è un po' la curva Faccio... Però in realtà con quel tipo di spada mi trovo bene Se devo essere onesto Vabbè, questa è un po' più pesante Allora, di base la nostra è di livello 3 Fin quando noi ne troviamo una di livello 4 Magari per sostituire la sciabola dritta Perché come ho detto La sciabola è quella... Che effettivamente mi... Mi dà soddisfazioni Per le corazze C'è la possibilità magari di segnarmi Una... Preferita, tra virgolette Vedi, con questa già passiamo L'armatura del comandante dei turbanti gialli Era buona, ma Già il peso ci porta troppo La difesa aumenta di 2 Il peso però ha già arrivato sul giallo Quindi siamo più lenti Di un po' troppo Ce ne sono anche altre Però Sono sempre Un po' troppo pesanti Sono tutte molto più pesanti Quindi Qua pure il fatto del peso Va bene però Porca troia Allora Questa... Allora in realtà il peso Sia questa che questa Portano allo stesso... La stessa pesantezza Questa qui però Ha molta più difesa Dovrei o mettere quella E magari togliere Puntare a qualcosa di più leggero Per le altre In modo tale Da avere comunque Una difesa generale Migliore di quella Che abbiamo adesso Anche se magari mettiamo Dei bracciali Che difendono meno Allora questo Questi possiamo portarli Aumenta però di tanto Il peso dell'equipaggiamento E mi sembra molto strano Pure per questi E a sto punto Vediamo un attimo Il pantalone Avevamo tenuto Questo qua Piuttosto Leggero Perché come detto Sennò sporavamo Beh guarda qua Eh però pure questo Sti cazzo di Tenenti generali Vabbè allora Facciamo una cosa Per il momento Campione dei turbanti Gialli Le possiamo mettere In realtà Queste ce le possiamo Permettere E Scusate E anche qui Eventualmente Avevamo Siamo sempre nel verde Quindi si potrebbe Anche fare Buttiamo un po' Sulla difesona E Poi vediamo Poi vediamo Vorrei comunque Rimanere Più leggero possibile Già siamo Parammare Pio Vai vai Andiamo a morire male Siamo pronti Siamo pronti A grandi linee Vediamo quanta autonomia Abbiamo Io Non tantissima Lui credo Meno però Diciamo che lui Sarà il primo A cedere Secondo me Guardali come arrivano Villaggiosi C'è un po' 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 la vedi conosce il perso la signora brava brava che tu non serve un cazzo andiamo con questi che sembrano più cazzuti lascia perdere Kau Kauji lo possiamo chiamare adesso un attimo mi soffio il naso scusate pronti a morire male con Kau Kau però anche qui ci sono un sacco di bandierozze più dell'altra zona sarà in ferie si però se mi parli io non riesco a tenere la e allora un attimo ci fermiamo anche qui ma tipo qua iniziamo ad avere nemici della serie quello è un nemico o sembra di no in realtà ma non ho capito neanche se sta roba c'ha velena si allora non è che ci faccia male male però diminuisce lo spirito immagino che alla lunga poi si ci faccia anche male male una volta che termina lo spirito però se ci diamo un'occhiatina magari merda a noi dobbiamo stare attenti oddio lo spirito poi lo recuperiamo magari attaccando questi però nel mentre continuo a scendere quindi facciamo una cosa veloce Kau Kau tu fa fa come cazzo che pare libero di attaccare buttarti male che eh 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 E poi magari Eventuali Tre mission Ci sono extra Si possono vedere Questa zona Sembra piuttosto Stronza E a naso La butto lì Dall'altro lato Vabbè possiamo pure Arrivarci così O cadiamo come di stronzi Ah no non ci passa Qua C'è un muro invisibile Eh potevate mettere Un'altra pietra Almeno per estetica Dai Vabbè fa per giro Dall'altro lato va Di solito Effettivamente Te mette sempre qualcuno Davanti Ragnone Devi sapere Ma ma che ragno Metallizzato Bravissimo Con quale stile Troppo impossibile Da aprire Troveremo il modo E pure morirai lì Due sole opzioni O mori lì O troviamo la soluzione No mi sono parato La parata non funziona Evidentemente no Evidentemente no Qua Non ci andiamo dopo Ma poi come cazzo risaliamo Vabbè ci andiamo subito Perché ci dovevamo andare Dove Vabbè Inpronata però E' nemmeno un cazzo Deve sapete A livello 3 Non gli facciamo Un cazzo niente E' male che C'è cao cao L'accao Stai più a Le padilate Per noi eh Madonna Ci ha rotto il culo Ci ha rotto il culo Forte Cazzo Uno di livello 3 Due Due martellate Sui denti Ci ha disintegrato L'anima Vabbè Allora Scusa Cao cao Vediamo se qua riusciamo a saltare Neanche per il cazzo C'era la strada qua Con la bandierina Imboscata Cacao Allora 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 Qua Dobbiamo vedere bene Perché ce le perderemo tantissimo Le bandierine qua Qua sopra secondo me ci arriviamo Tipo con sto palo No Là sotto Vabbè il bandierone c'è Così come ci stanno Quelle che ci inculano Però 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 C'è Io prima su Prima giù Prima giù Prima su Ardua scelta Cia la troia Tu Cia la troia chi che sia magari se ci arriviamo prima invece di farci l'area coronata kakao cazzo ma quelli che ci portiamo sono veramente dei dei elementi stanno là così a non fare un cazzo annaggia la troia che rottura di coglioni però eeeh eeeh aspartiamo magari un pochino almeno se riusciamo a fare il primo colpetto steltino io me ne vado kakao che pensa lui bravo affezionato questo sto capendo è pure quello sopra che lancia cose però è questo quello che è il culo pesante eeeh 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 kakao te lo lascio a te pensaci tu eh almeno portamelo fuori kakao ma kakao com'è possibile kakao 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 cazzo l'avevamo quasi ucciso almeno mi riprendevo le animelle facevamo la vendetta a me se si è ripresentato kakao può essere che si ripresenta pure lui da qualche parte non so dove dove sei passato tu scusa giusto per sapere quello me lo segna comunque dall'altro lato ancora aspettiamo che arriva pure questo vabbè eeeh niente dove possiamo andare eh non so dove cazzo è passato sto gau gau vabbè f*****o cazzo sempre io vedo questi schiaffi le traverso facciamo appiarne qualcuna a stealth tipo non credo perché c'è quella che ci vede dovremmo via prima quella step questo che fa? aspetta che fa manovra fai eh sono molto più veloce di noi quindi cazzo la mia morte qua si fa so che dovremmo andare più lentamente però se se vai un po' più di corsetta se lo fai anche velocemente di solito ci se la potrebbe fare la faffanculo dai dio cristo è fatto apposta la madonna incoronata ma cristo uno spudo gli mancava sta baldracca di merda avanti la fattene affanculo ma abbiamo perso tutte le vabbè cioè se ti da un alleato inutile cazzo è possibile che non poteva neanche dargli un mezzo colpetto quello la è inutile pure che ci riandiamo tanto ormai ah no andaci dobbiamo riandare comunque ma prima dobbiamo far fuori sta però io adesso comunque come ci risalvo non lo so no dobbiamo comunque far qua tanto quello che abbiamo perso abbiamo perso non fa niente allora cao cao non entro dove sia però non entro magari è quella che è che è giusto che è giusto che è giusto Lui comunque non attacca Lui intendo Che il nostro avversario attacca e cuore Non saprei Allora dovremmo Andare Qua non ci arriviamo Passiamo da qua Per la bandierina Penso proprio di no Grazie Petrino Grazie per i 23, grazie mille Allora Da qua apriamo Un pertuggino Che riporta Ok a questa zona qui Perfetto Ehm Piccola scocciatoia per Sapendo In realtà dalla distanza l'avete visto il riscetto Però Stavo Vai via lui che tanto non si muove Non fa niente Se stiamo Ma battela Sei inutilissimo Lì c'è la bandierina Però prima di buttarmi sotto Magari Che mi aprite voi la porta Scusate Biondi No Spassati qua C'è l'inculata Ci cade una Trave Vabbè lo fa meno Però in realtà è di livello 5 Certo è uno stronzo qualunque però Noi possiamo essere malmenati Uccisi anche da uno stronzo qualunque Cao Cao Proprio non gliene frega niente Sta lì a guardare Si gode lo spettacolo Ma però forse andriamo Andriamo Andiamo un po' troppo in là Quindi facciamo che effettivamente Andiamo via la bandierina Ma se dobbiamo scendere Ci guardiamo Possiamo risalire Dovremmo andare a recuperare anche quella che ci ha rubato l'anima Per riportarci su Per quanto Non sia strettamente necessario Ma Se può fare Eh io ovunque sotto dovrei riscendere monzo Quando ma Dovremmo La mazza col manico di bronzo Ma Non saprei però Un buon uomo Eeeh Scusate Novità dovrei che te la faccio vedere Non facciamo spattere quel cazzo Tanto comunque siamo Questa Sti blocchi impossibili da aprire Hanno pure rotto il cazzo Ma che ho cambiato arma Ma come cazzo mi ha fatto affia che stavo dietro Ma vaffanculo A tua mamma Quella Puttana Grazie 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 Veri 24 Ma vaffanculo Cioè mi ha fatto la schivata e mi ha piazzato davanti al nemico Guarda a Cristo Morto Vabbè ci facciamo una corsa Vabbè ci facciamo una corsa veloce signori Poi ci salutiamo Mi sono rispettato Non mi fa male la corsa Verrei che per questa sera può bastare Eeeh Donna mia Quello torna? Ah tornano tutti Cazzo Vabbè però mica tutti possono saltare qua No non ho ricontrollato la spada Dio Cristo incoronato Ma quando cazzo ho chiamato questa spada Attenzione Ricciopo Sì Sottornati tutti Sottornati tutti Attenzione Ah no questo è un problema però Questo potrebbe essere un problema Eeeh No però io mi devo rimettere la spada di prima Non è minimamente questa È necessario fare questa cosa Sciabola con pomo ad anello Ma era questa Ma perché si muove Scusa Non lo so Una cosa Sempre veloce Skippando Cazzo e mazzo Guarda Puoi fare anche una cosa Per quanto mi riguarda Quella è la bandiera Dove cazzo L'avevo vista io Mi dai una mano Mi raccomanda Sì un po' Cazzo riesce a stare È già morto lui Ciao Mangia la troia Sostanterrimo Scusa sto cazzo Di piccione Basta Noi recuperiamo un po' Di sal Kao kao fa qualcosa Non fa danno Per carità però La tirate Ma vanna Incoronate Questa Sta pinta A sfregio Vai Perché qua Perdiamo anche tanto spirito Kao kao perde anche la vita Ma questo Lo mettiamo in conto Posso anche dire che ce ne sbattiamo il cazzo Eh se un salame ricapato Giovano Grazie Lazzarus Grazie per i cinque Riposiamo? No Non è necessario Non è necessario E ce n'è un'altra La dietro E ci arriviamo Da Quest'altro lato qua Ma non credo Da adesso Grazie per Avermi coperto le spalle Come sempre Carissimo Kao kao Lei è gentilissimo Nonché utilissimo Alla causa Cazzo di riccione Comunque Guardalo Neanche me lo locca Aspettava lì All'ombardo Merda Eh cazzo Però un po' Ci devo manca Allontanarmi Vandaggia la troia Ah potevamo anche Prenderlo alle spalle Saltando qua Giustamente Allora queste qua Prima ci avevano Ma in realtà Inculato però In modo anche Così eh Secondo me Abbiamo fatto Quella la Ma queste Non saranno Fattibili Figurati Figurati Queste Aspettate 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 L'altra Ma c'è Ah perché c'è Anche quell'altra Vabbè proviamo Grazie Store Popper Grazie per i 64 Mesozi Attenzione Aspettate Sono stati Incredibile Ma questa Prima Io mi paro Per il cazzo Che gli Si Sempre lei Però quella Che è in cula Sta di fatto Che indipendentemente Dal fatto Che magari Si ha Di livello Non più alto Di altre Ma è Molto più Troia Una Pretenzione Prenderlo Ma anche A darlo Che in realtà Mi è andato male Almeno ci esploriamo Pure sta zona qua Così Almeno di cadute Ulteriori Cadute da Stronzi Magari ce la evitiamo Sta zona Anche se C'era ancora Qua è dove Eravamo caduti L'altra volta Credo Non mi ricordo Ma credo Voi tutti morti Cioè tu guarda Se lui fa qualcosa Qua Guarda se fa qualcosa Dio Cristo Di cacata No cacao Tu sei un caucatone Sei un caucato Qua c'era la chiave Bene così Ora dobbiamo capire Se è la chiave Della parte sopra O se è la chiave Che possiamo usare Anche qui Spero che sia la chiave Da usare anche qui Perché almeno Sblocchiamo la bandierina Grazie Neo Grazie per I 32 Lei è morto Ma va bene Anche così Che cazzo sta a fare Ma tranquillo Fai le tue cose Con la spada Quando è inutile Vediamo cosa stiamo facendo Ormai è andata così Signore Ehm 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 Sulemani Per Sare Passato Sulemani Per il buon Andrea 77 Per le 10 Savone Giftate Sulemani Per Andrea Dai Grazie Andrea Gentilissimo Grazie mille Per le 10 Savone Giftate Mi raccomando Ragazzuoli Come sempre Ringraziate il buon Andrea Voi che avete ricevuto Le Savone Giftate Il regalo E vi ricordo Che come sempre In generale Se volete abbonare Potete farlo anche A gratis Con il Prime Ehm Punto esclamativo Prime Infatti E poi Punto esclamativo Sub Ehm Andiamo A morire male Anche qui sopra Però Almeno Lo facciamo Con Tutto Di pronoga Prima Il signore Con la lancia Un altro signore Eventualmente Facciamo veloce Che mi rompo il cazzo Veloce ma non troppo Perché queste Sono aggressivi Merda Santissima Vai cacao Vai cacao Facci sognare Questo ci fa Morire Non riesco a muovermi E lui non fa niente Lì Bravo Dio Cristo Un po' di dignità Cacao Ehm Grazie a Il Duca di Forneglio Per i sette Grazie Grazie mille per la resa Buon suore Buon suore Beh prosegue tra una bestemmia e l'altra Possiamo dirlo No allora diciamo che quelli che ci dovrebbero aiutare Comunque sono veramente delle merda Ma tutti Forse i primi in realtà aiutavano un po' di più Ma Per il resto gli altri fanno veramente cacare al cazzo Allora qua abbiamo la chiave anche per aprire questa Per la bandiera Immagino Bravissimo Se io adesso metto la bandiera qua Se mi fermo mi fai risponare pure questi O possiamo eventualmente Far finta di niente Eh no perché se no mi sembra eccessivo Grazie Grazie Mette Grazie per i quindici Scimitarà qui anche più uno Più il bracciale Che cazzo era Allora là sopra si sale Però noi dobbiamo anche scendere qui Signori Attenzione perché C'era da andare in quella zona Dove prima Non eravamo arrivati Poi eravamo arrivati No mi sa di no Perché era La madonna Era caduto il ponticello E non riuscivamo più a arrivare qua Quindi qua si può risalire Eventualmente Se la mamma della ricciola qui Capimba Eh non possiamo parare con questo attacco Riccioloso eh Il livello è 4 Questo è 4 Prendi la bocca Caga La cicala L'abbiamo trovato Ok Tra l'altro la fabbra Non l'abbiamo trovata Anche tra tempo in memora Aggiungerei La barda dei cavalieri Niente Armi che usiamo noi Neanche Per i cazzo Per risalire là Dobbiamo scendere qua Va bene Va bene Va bene Va bene Saliamo Grazie Nielu Grazie per i 59 Buon soir Buon soir Grazie mille Grazie per il supporto Eh provo a fermarmi Ma vediamo Dovremmo anche riuscire a fare un livellino Magari un po' di virtù legnosa Vai di virtù legnosa Che passa la paura Questi sono ricicciati qua Beh che fa Li lasci Io però Mi faccio i cazzi miei Mo Cacao Io lo lascio Ci giocano un po' Simpatico Cacao Cacao Mica siamo in zona boss Però Non credo Abbiamo troppe poche bandierine Cioè Ce ne possiamo essere persa qualcuna Senza ombra di dubbio Ma mi sembravano un po' troppe Quelle che mancano Ce ne mancano Tipo sei Cazze Dove ce ne siamo persi Keep your eyes sharp Ce ne siamo persi Impossibile Cosa cazzo stavano Tutte quelle bandiere E invece Baish La bagage Immagino Le amicizie Signora Non se la prenda Eh no Questo non l'ho parato Gli ho parati gli altri Questo non ce l'ho fatta Signora Baish Mi scusi Mi perdonerà Ma Eh per me Attacca Cacao Cacao Mannaggia la puttana Sono già certe sferle La signora Eh Perché appena prendi Cazzo Già è morto Cao Cao Ma vattene a fangulo Va Sì vabbè signori Cao Cao È veramente una merda Ricapata Eh poi uso Il serpentone Voglio almeno arrivare Ecco Ok Adesso Che ci recupera La salute a noi E mettere via pure Cao Cao Meravigliaola Non è vero Non è vero per il cazzo Scusa Non si dovrebbe ripiare Quando Madonna Incolonata Però Dov'è Cacao Mi sa che proprio Non esiste più Cao Cao Se l'è proprio Andato Va bene Non è vero Madonna Che cazzo è Cazzo Perché non Non fa più Il Paradino Di Christian Vattene a fangulo Vabbè Ci ha rotto il culo male Però Per forza Per forza Abbiamo anche I nostri alleati Che se ne vanno E Sì Siamo di Livello molto basso Però onestamente Come detto Ci mancano Dove cazzo Stavano tutte queste Bandiere Scusate Dove cazzo Le abbiamo lasciate Che là Le abbiamo No Oddio Aspetta Però all'inizio C'è da dire Anche una cosa Che all'inizio Non avevamo Neanche Tipo le chiavi Ma forse Ma forse Neanche qua sotto Sono andati Può essere Buffa Devo fare un giro Cazzo Un pochino Si dovrebbero Si dovrebbero Anche vedere A naso Anche ad occhio Eh però Eh no Ci attacciamo A cazzo Qua Facciamo Fanculo Allora qua è dove Avevamo sbloccato Una delle bandiere Va bene Eh La quella A sto piano Ma non è che Cosa abbiamo visto No vabbè Però se riusciamo A trovare Oppure un'altra Mezza bandierina A cazzo Così Guarda qua Come arriva Stelta Bravissima Occhio alla coda Perché qua In realtà Prima siamo passati Anche correndo In modo Merda E Cristo Morto In croce Fottuto Cacao Di merda Guarda Guarda là Guarda solo Sto coglione Di merda Ma che cazzo Te lo dà a fare L'aiutante Se non serve A niente Cioè Facciando da soli Che cazzo Se lo mette a fare Che fa finta Che Ti stia dando Una mano Una mano Quando in realtà Posiziona Rottura Di cazzo Certo Oddio Può essere utile Quando viene Quando attira Badilate Ma per il resto È totalmente Inutile Allora Noi da qua Siamo venuti Giusto E Da sotto C'eravamo Da qua Credo Si muoia Ma in questo gioco Non credo C'erano muri Illusori Uno Ci provano Questo di livello 0 Magari Evidiamo Di farci ammazzare Dove eravamo Passati All'inizio Non avevamo Le chiavi O altro Magari Qua può essere Qualche bandierina Del cazzo Osto Già Siamo lasciata Tra l'altro Va bene Ehm Se poi volevi Darci anche Una mano Beh Certo Se proprio Non vuole Non ci siamo Allora 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 Vabbè Qua c'è Quello Che Inculation Credo No Si Si In realtà Si Bravo 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 Provaci pure Un'altra volta L'altro attacco Io lo puoi pure Qua Pure per finta Madonna Ci ha giocato A Crocket Ha lanciato via Come se non ci fosse un domani Bravissimo Boh Signori Ce ne mancano Come detto Sei di bandiera Ma io non ne vedo Neanche Mezza Anche Volendo Non saprei Qua c'è Qua c'è Qua c'è Qua c'è Vabbè Sti cazzi Mi pare Che strade Queste erano Quella E Va bene Va bene così La scala stava là Giusto Allora Eventualmente Ci fermiamo Qua Al Baracchino E E Dottere prima della boss Puoi trovare altre Ah ok E cazzo Allora Ehm Rinforzi Sì perché sto Cao Cao è veramente Una merda Zangfei comunque Secondo me Zangfei Zangfei Falcione del drago Zangfei Zangfei Ha dato soddisfazione Proviamo Signori Proviamo Andiamo veloci Questi Ci rischippiamo Ben volentieri Magari E andiamo a morire male Nella boss Fight Che ci sta Ehm Comento Che Cristo Di Dio Però almeno Aspetta Sto Fizzica Visto che Vai attaccate Però C'è la Troia Putana Aspetta Ti devo dire Di andare Oh Non mi ricordo Qual è il tasto Ma come fanno Essere già morti No Vabbè Ma vabbè Ma vattene a fanculo Oh Aspetta Un attimo Cavcavolo Lasciamo Quello è il problema Certe volte Poi c'è Sti stronzi Del cazzo Che per aiutarli Comunque Aiuti loro E non Non ti pare il culo Va I will lend you my aid Ok Fornimento Zouyun Vieni tu Va Magari Proviamo Proviamo Sti cazzo Buttati dentro Buttati dentro Buttati dentro No Se non prendi bene La La vara Da schiava Cazzo Emano Niente da fare Guarda Vediamo se sono aggressivi Sì 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 No Vabbè Ho usato Già Tutte le Fiaschette Senza Verrà Ma Poi Niente Quelli Sono Morda Già Questo Tanto Però Strano Che non Mi abbia Recuperato Quelli No Vabbè Eh Se me la Tieni un attimo Scusata Mi provo Pure A ripiasco Questo Cristo De merda Che neanche S'è S'è Ripiato Siamo rimasti Con Cao Cao Qua Rimasti Con Cao Cao E' una parola Grossa Che Cao Cao Ci ha lasciato Merda Buongiorno 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 Dai Cazzo Stai Mannaggia La troia Di Eva Buongiorno Mannaggia Cristian Bastardo di merda Rinforziamoci Bagnu Vieni tu va Fiamo a turnover C'è un po' di turnover Dai facciamo l'ultimo Poi basta Fatta la gerda Devo cercare di Pararmi gli schiaffacchi Perché se no No Ok Insistete Insistete Cazzo Di nuovo Grazie Grazie Insulina kid Grazie per il prime Grazie mille Benvenuto tra gli sportiveggianti Grazie mille per questo primo miso Per il primo mese di tanti Mia compagnia Stagio Stagio Vaffanculo Vaffanculo Grazie mille per il primo Grazie mille per il primo Grazie mille per il primo Grazie mille per salvare la mia vita Sono Jen Di Zhongshan Commanderine Signora col serpente Ci mancherebbe Sta Protetto Eh guarda con quel ciuffo che fanno Riconosci Quell'altro c'ha la rampa Per Grazie insulina grazie mille Spero sia il primo mese di tanti Mi accompagni anche qui su Twicciolo Allora 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 E E insomma Guarda che banda Una bandierina qui ne Ne abbiamo Ce l'ha regalata una bandierina in zona Magari giusto per non morirci male Già allo start Perché se non Dove ripartiamo Capiamo anche perché non vedo un cazzo Allora noi siamo venuti da qua Credo che era la zona della boss fight Non credo qua Ci sia qualcosa da recuperare In queste porte Io nel dubbio me le giro Potrebbe anche essere così stronzo Da aver messo una bandierina qua dentro Sempre da sbloccare dopo la boss fight Però È possibile È possibile Ok Non c'è Grazie Checco Grazie per i 34 Grazie mille Allora 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 No Non siamo pronti in realtà Vorrei semplicemente ecco Sbloccare una bandiera Che magari Ci si saluta qui Per questa sera Siamo durati anche abbastanza Signori Siamo durati anche abbastanza Non tanto il personaggio nel gioco Quanto io Con la Con il mal di gola Quindi Magari Alla Alla prossima Proviamo a proseguire Certo È un po' Spezzare la partitozza A metà Zona Infatti di solito Ho sempre fatto una zona completa Però Appunto Se siamo a metà Poi andiamo un po' troppo Per Per le lunghe E Questa è sempre Buona roba Legno Per il momento Rimaniamo squadra legno Grazie Mattia Grazie per i 38 Grazie mille E Bene E bene Signori Noi ci vediamo Con la Lives Mercoledì Alle ore 21 Non vi perdete i video Di questi giorni Mi raccomando Primo e secondo Canale Cercherò di Portare Comunque cose Vediamo un po' Con la Come siamo messi Domani però Arriva il finale Di Sons of the forest Quindi almeno quello Non ve lo perdete Poi proseguiremo Sempre con il buon Metroid sul secondo Canale Più altri Titolozzi Ragazzi ci vediamo Mercoledì Invece per le live Grazie mille come sempre Grazie mille ai Subscribers Per il supporto Come sempre E buona Buonanotte ragazzi Dai A mercoledì Ciao cari Ciao ciao Grazie mille ai Grazie mille ai